Stiamo lavorando senza sosta per assistere ogni singolo imprenditore. Dobbiamo fare tutto il possibile per mettere in sicurezza le nostre aziende di fronte ad una tragedia umana ed economica di dimensioni tanto drammatiche quanto surreali. Lo dice Patrizia Diddio, presidente di Confcommercio Palermo, che sta producendo il massimo sforzo possibile in stretto contatto con Confcommercio Nazionale per elaborare le proposte da avanzare nelle opportune sedi istituzionali per aiutare le migliaia di imprese associate a districarsi tra norme e complessa burocrazia e per l'accesso ai primi provvedimenti tampone. Gli uffici in particolare si stanno adoperando per rendere accessibili gli ammortizzatori sociali di imminente applicazione, la Cassa Integrazione Inderoga e il Fondo Integrazione Sala Reale. Confcommercio Palermo lancia SOS Impresa, ha istituito una mail dedicata messa a disposizione per le richieste degli associati, relazioni sindacali, chiocciolacomfcommercio.pa.it. Le nostre aziende, spiega Diddio, non possono essere lasciate sole a districarsi su come fare per sospendere il pagamento dei tributi, dei mutui, dei finanziamenti, per le richieste di moratori e proroga e per l'accesso al credito bancario e la Cassa Integrazione per i dipendenti, con le autorizzazioni all'accesso nelle aziende e per gli spostamenti di lavoro per quelle attività che possono farlo. Dobbiamo anche preoccuparci di rendere semplici ed immediate le eventuali autorizzazioni per la conversione della propria attività, consentendo per esempio a chi lo può fare la vendita online o le consegne a domicilio. Confcommercio Palermo, prosegue la Diddio, sta lavorando a pieno regime con gli strumenti digitali e smart working, con il costante coordinamento del direttore Enzo Costa per assolvere nel modo più profondo e autentico la mission di un'associazione di categoria che vuole rendere ancora più misurabile il proprio sostegno, monitorando le norme mole di provvedimenti emanati dalle istituzioni per fornire le corrette indicazioni grazie anche all'ausilio degli esperti della Confederazione.